Simone Maggiani, vista dal parquet questa maratona che vi ha visto spuntarla contro Chiaveri, deve aver fatto ancora più impressione, vero? Beh sì, è stata una partita combattuta fino alla fine, siamo andati anche all'overtime, è stata vinta di davvero pochi punti giusto gli ultimi minuti, però ce la siamo giocata appunto sul fisico, sul piano atletico, anche soprattutto grazie all'esperienza di alcuni nostri giocatori come Ben Caster che ha fatto una gran partita e probabilmente anche un pochino di freddezza, appunto quell'esperienza in più che ha avuto lui ci è stata di grande aiuto. Senti, dovrebbe essere più facile il prossimo impegno, quello che vi vuole sabato prossimo a Santa Margherita o sbaglio? Beh sì, in teoria sulla carta è una partita più abbordabile per noi visto anche la posizione in classifica dell'altra squadra, però appunto non dobbiamo distrarci neanche con le squadre diciamo più distanti da noi in classifica, proprio perché il campionato è tiratissimo, siamo tre squadre a pochi punti lì in cima e non possiamo assolutamente permetterci di perdere il primo posto.